Beh ragazzi sono Ale Lavi e bentornati oggi sul mio canale C'è questa breve intro che sto aggiungendo ovviamente dopo aver fatto il commentary Nel quale volevo un attimo scusarmi per essere stato assente così tanto tempo Però ancora non avevo più scheda d'acquisizione e come comunque verrete dal video adesso La scheda d'acquisizione è arrivata E niente, scusate se è un video ancora di MW3 però il commentary l'avevamo fatto prima che uscisse Ghost A breve arriverà un video di Ghost, non penso sia una chemstack Perché ecco, come sapete non c'è il cinema, io nella tv di là è 10 volte più grande della mia Sulla quale sono abituato a giocare e quindi devo un attimo prenderci la mano Comunque niente, scusatemi ancora, ora da tornare all'attività del canale Cioè rincominceremo, rincominceremo perché ecco mi farò aiutare da qualcun altro Però lo vedrete nel prossimo video, guardatevi questo due al commentary con Slevin Lasciate un like, un commento ma mi sa che ve lo dirò anche a fine video, non mi ricordo E niente, bella ragazzi Bella a tutti ragazzi, sono Slevin e sono oggi qui sul canale di Aledavi9198 Bella ragazzi, ve l'avevo promesso infatti che avremmo fatto un duel con qualche mio amico Anche se Slevin in realtà non è mio amico però Niente, oggi sono qui a portarvi insieme a lui questa doppia mob Anche se... Busterata C'ero io nella squadra avversaria col secondo account ragazzi Più che Busterata diciamo che è tagliata perché c'è stato il cambio dell'host E quindi non l'ha registrato tutta Però diciamo che è una roba accettabile Dai, bella scusa Lale Niente, allora volevo presentare un attimo Slevin Anche se sicuramente lo conoscete perché c'è 100.000 iscritti Eh ragazzi, cazzo un creeper Sì dimmi 100.000 iscritti in un mese non è una cosa da poco vero? C'è veramente ragazzi, cioè Non so, c'è Merda di Okano e un altro creeper Porco dio, sono morto Sì, sto giocando a Minecraft Sì, sto giocando a Minecraft e sono anche morto No, dicevo ragazzi che sono Slevin Qualcuno di voi mi chiamerà, mi conoscerà Ho un canale di 400 iscritti Faccio video di merda Giusto per intrattenere quei 2-3 iscritti progetti che ho Tra cui Aledavi naturalmente Io sono sul sito più attivo E poi, non lo so Carico gameplay di Call of Duty come Aledavi Però non boosterati Mi piace la ficca E segni particolari Vabbè, a parte le stronzate Allora Niente, torniamo un attimo più sul giorno d'oggi Di cose attuali Comprerai Ghost, sì o no? Ho comprato da Dalla GameStop che rompo nel day one Eh, tu, perché lui Ma appunto, come sappiamo, 100.000 iscritti Quindi gli regalano anche le cose Gli regalano anche Black Ops 3 Ha regalato anche la PS4, lo mi hanno regalato E gli hanno fatto testare anche la 5 Però non lo vuole dire nessuno No Sono cose segrete Comunque allora, niente Slamming appunto fa Cosa? Gameplay come Sì, videoporno Di Call of Duty Ci sono tante MILF E infatti su Ghost ragazzi Si riuscirà A fare veramente dei bei videoporn Infatti ci saranno anche le donne Nei soldati Quindi ragazzi Aspettatevi tanti videoporno Su Slamming.xx E niente Eh, vabbè, allora Ovviamente il canale di Slamming Sarà in descrizione Anche se è uno spiccato di merda Di sicuro non passa dietro al suo canale Eh Poi volevo dire una cosa Puntualizzare una cosa su Slamming Che lui È trocio No A parte quello No, dai, scherzo Dopo magari mi danno di ricchione Perché faccio i video scuonale d'arice Vabbè, ma Guarda che è un onore fare un video con me alla fine Eh, hai ragione Volevo dire soltanto che questo era In pratica il mio speciale Per i 100 iscritti Perché alla fine 100 iscritti Cioè È tanta roba Tu quando hai raggiunto i 100? Ma dopo un paio d'ore che avevo aperto il canale Eh, vabbè, sì Io Diciamo come ci siamo conosciuti Allora La realtà Che noi due ci siamo conosciuti È che quando avevo circa 200 iscritti Lui aveva, diciamo Il primo canale Sì, il primo canale Lui mi mandò un messaggio privato Con scritto Guarda Sono un ragazzo Di 14 anni E tipo tutto Leccaculo Che fanno tutti E poi alla fine mi fa Mi sponsorizzi E ho i DPSN All'edà di 91-98 E allora gli faccio Va bene Dai, ti aggiungo Poi dopo Non l'ho ancora sponsorizzato No, scherzo Però Era un ragazzo simpatico L'ho tenuto tra gli amici Sì, anche perché senza di me Non riuscirebbe a fare neanche un gameplay Tutti con me Sì, è vero Quasi tutti con lui Vabbè, allora Niente Questo era appunto Un breve video speciale Per i 100 iscritti Stavo per dire 100.000 Ecco È un video di merda Perché alla fine Non abbiamo parlato di niente Era tanto per fare qualcosa di diverso Per caricare qualcosa Perché non ho più gameplay Di niente Al contrario mio Che c'è solo gameplay Se vuoi te ne passo qualcuno Ma no Ormai ho annunciato Che metto sotto la doppia mob Metto sotto quella Niente Ora aspettiamo Ghost A giorni vi dovrebbe arrivare La sfida dell'acquisizione Quindi I video Alt più easy cap Easy cap Però dai Si vedeva abbastanza bene Avevo speso 10 euro 10 euro Più 5 euro Dei Dei convertitori Non ho preso nessun convertitore Solo l'easy cap E un cavo Beh Beh niente ragazzi Chiudo io il video Perché Insomma Non me lo fa nessuno Come me Bella ragazzi Il video è finito Andate in pace Nel nome di Cristo Stiamo prendendo Alba Sotto controllo Madre di tutte le bombe Stiamo prendendoci Stiamo prendendoci Stiamo prendendoci Non Siamo il specialista di moto.